Mia moglie mi dà del matto, ma io dico che non è sta parlando! Per uccidere le prede, prima che catturino i forzieri. Nuovo forziere. Che ne dite di provarli? Senti giunti dalla rabbia! Che ne dite di provarli? Un forziere sta per essere catturato. I vostri occhi! Sei al comando. Un forziere sta per essere catturato. Due funzioni! Veleni! Per ruote, stoffe, cappesi, arme. Viva la Crescersi! Un forziere sta per essere catturato. Un forziere sta per essere catturato. Sei al comando. Un forziere sta per essere catturato. Pane, stoffe, cappesi, arme. Il recrattito catturato. Ti hanno scendito. Contratto perso. Arme! Strada, brava te! Un forziere sta per essere catturato. Il mediterò inutile la scusate. Un forziare sta per essere catturato. 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 Un forziare è stato catturato. Un forziare sta per essere 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 catturato. Cattura in corso. 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 La regente epidemia suina nelle campagne si è ora diffusa anche nei rioni più poveri. Per quanto posso... Cattura in corso. 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 Grazie a tutti.